Il presidente della regione toscana Enrico Rossi è intervenuto a Bruxelles alla seduta plenaria del comitato delle regioni in parte dedicata al futuro delle politiche di coesione. Nel corso del suo intervento Rossi è illustrato il tour l'Europa in Toscana, un viaggio appena iniziato in cento siti della regione in cui sono stati realizzati progetti finanziati con i fondi europei. Non ci saranno tagli drammatici, ha detto Rossi, ma questo ancora non basta per rilanciare l'Europa. Ci vorrebbe molto di più, ci vorrebbe un'Europa diversa per rilanciare l'Europa anche tra i cittadini. Io ci sto provando, in Toscana sto facendo queste cento tappe, abbiamo fatto una prima provincia con effetti interessanti perché con tutto il male che si può dire dell'Europa, forse l'Europa è anche conosciuta poco. Se non avessimo avuto i fondi, le politiche che fa l'Europa ci sarebbe stato un pezzo della Toscana che non avrebbe trovato la sua strada, e di tutta la Toscana, che non avrebbe trovato una strada di sviluppo, di innovazione, di eccellenza. Adesso vado in giro per la Toscana e mostro questo. Sono gli stessi imprenditori, gli stessi agricoltori, gli stessi giovani, gli stessi sindaci che ringraziano l'Europa. Dal 2014 al 2020 l'Unione Europea ha destinato all'Italia 44 miliardi e 600 milioni di euro di fondi strutturali, in gran parte gestiti proprio dalle regioni.